Ma niente, penso sia molto importante il Parlamento dei Giornali Studenti e io lo dico con tutta sincerità, ho visto che c'erano queste candidature per il Parlamento a scuola mia, ma io mi sono candidato senza sapere cosa fosse. Perché, come ripetevano oggi in riunione, il Parlamento dei Giornali Studenti non è conosciuto nelle superiori, non è conosciuto e quindi mi ci sono trovato dentro e ho fatto le elezioni di secondo grado, lì ho cominciato a capire perché prima di queste elezioni ti formavano un pochino dicendoti i principi di questo Parlamento e ho vinto e insieme a una ragazza che è la mia collega io sono stato eletto UP e quindi niente, io penso sia molto importante e penso anche che ci voglia, come dire, un modo, cioè ci voglia, bisogna divulgare questa cosa il più possibile perché davvero, come ripetevo prima, non lo conosce nessuno e quindi niente, penso che sia una cosa interessante e poi perché comunque tutela tutti gli studenti, quindi non è una cosa da poco, ecco. Ora noi il prossimo incontro lo faremo a gennaio, credo, con Lega Ambiente dove praticamente io e questa collega, Gaia Longobardi, convocheremo non solo gli studenti tutte le superiori ma anche i cittadini, così che poi possano tramandare questo sapere del Parlamento degli studenti. Ci sono dei temi che affronterai te, che ti credi che puoi affrontare meglio di altri? Ma io, allora, praticamente io sono del Montamiata, del Montamiata nella parte in provincia di Grosseto perché metà è provincia di Grosseto e l'altra provincia di Siena. E niente, penso che comunque io mi occuperò più della parte montana perché comunque raggruppa quattro istituti e mentre questa Gaia Longobardi si occuperà un po' della zona più vicina a Grosseto, compresa Grosseto stessa. E niente, io non penso che comunque, io diciamo il coinvolgimento principale l'ho avuto pensando che bello, porto la voce dei ragazzi con cui vado a scuola, la porto in Parlamento, insomma è stata una cosa molto gratificante. Grazie. Grazie. Grazie.